Grazie a tutti E' un'immagine astratta Quindi dai, forza Sembra come se stiamo aspettando Capodanno L'anno nuovo Ok, perfetto, quando fissi l'orologio non scatta mai E vai, sono le 8 Quindi fra un po' sapremo il vincitore Allora, per trasparenza Assoluta, non metto a fuoco la videocamera Ok, vi faccio vedere La lista di tutti i partecipanti Questi sono tutti i partecipanti Effettivi Che hanno eseguito le regole Che io ho ricontrollato, ho ricontattato E apposto, quindi Questa qui Se chiaramente non vi vedete nella lista Puoi girare selvaggia Non avete eseguito qualcosa O non mi avete risposto Eccetera, eccetera E risposto segnatevela Allora, questa è tutta la lista Prego, se vi gira Selvaggia è il nome di mia sorella Ovviamente Ok, siete stati veramente Veramente tanti, 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 tanti All'incirca 136 Se non erro Una partecipazione assurda E prossimamente farò un altro giveaway Quindi rimanete sintonizzati Ed ecco qui tutta la lista Allora, invece adesso Chiudi tutto il libro Ok, prendi in mano la videocamera Ok, questo è il canale Quindi facciamo vedere il video Mettilo così Ok Ah, questo era il video inerente Eccolo qui Questo qui Perdonateci per l'illuminazione Eccetera Non abbiamo fatto una cosa così Professionale come al mio solito Allora, adesso andiamo su Google Perché l'estrazione avverrà tramite Il sito random Guarda così No, metti di più vicino Ok, perfetto Allora Random Eccolo qui Random Ok Siamo pronti per estrarre Il mitico vincitore Mi sento un po' a super enalotto Wow, eh Allora, partiamo da 1 Ovviamente Metta a fuoco Ma sì Ok Da 1 a 136, no? 136 Rullo di tamburi Oh Il vincitore è il numero 68 Andiamo a rivedere Sulla lista Vediamo, vediamo, vediamo Il 68 È il numero O meglio È la persona Valeria Salvato 6D La vincitrice E adesso ti dico Tutte le indicazioni Per avere i premi Quindi chiudiamo E vi facciamo vedere Per bene Per una trasparenza 100% Non c'è trucco Non c'è inganno Sono le 8 e 02 Quindi l'estrazione ormai è avvenuta E adesso riprendi me Allora, volevo dirvi Io mi scuso per l'illuminazione Che non è delle migliori Volevo dirvi Che siete stati veramente Veramente tanti A partecipare E vi ringrazio da morire Non ti preoccupare Se non metti a fuoco Non c'è problema Allora, come puoi ritirare Questo premio? Cara Valeria Salvato Si chiamava la ragazza? La voglio chiamare Proprio con il nome suo Altrimenti Allora Perdonate Il fuori onda Allora Ok, sì Valeria Salvato Allora Cara Tu devi contattarmi Il prima possibile Entro le 24 ore Puoi scrivermi O sulla mia pagina Facebook O in direct Su Instagram Tanto trovi sotto Nell'info box Di questo video Tutti i link Per accedere A dove potermi contattare Lì chiaramente Mi dai il tuo indirizzo Tutto in privato Per quanto riguarda Invece le altre persone Grazie infinitamente Per la vostra Super mega partecipazione Non temete Perché in arrivo Tanti altri nuovi giveaway E chiaramente Non vi cancellate dal canale Perché non potete Più seguire Le altre cose in arrivo Io vi mando un bacio Non mollate Perché a giro Sarete tutti i vincitori Vi abbraccio fortissimo E grazie per tutto quanto Ciao Ciao